Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio, sulla A1 direttissima in direzione Firenze per incidente 5 km di coda tra Badia e Aglio, sulla A1 ancora per incidente 2 km di coda tra Roncobilaccio e Barberino, in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra il bivio di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico, su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita, Sulla regionale 2 Cassia, restringimento di carreggiata nei comuni di Barberino e San Casciano, Val di Pesa, all'altezza del km 270. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!